Ciao, benvenuto nella elenco prodotti. In questo video andremo a dare un'occhiata al 5 migliori mini lavastoviglie. Ho creato questo elenco in base alle mie ricerche e opinioni personali e ho cercato di elencarli in base alla loro qualità, prezzo, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi che cut link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al quinto posto, abbiamo la Bowman TSG 7402.1, mini lavastoviglie. Tuttavia, quando si tratta di lavastoviglie da tavolo compatte che non richiedono una fornitura d'acqua, il modello Bowman TSG 7402.1 può essere ottimo per le persone che amano viaggiare in rolotte, camper, barca o persino in auto. Infatti, per il suo funzionamento è sufficiente riempirlo d'acqua, inserire al suo interno piatti, bicchieri e posate e selezionare lo stile di lavaggio, lo sporco svanirà in men che non si dica. Questa mini lavastoviglie è piccola e compatta, ma ha molte funzionalità, inclusi 5 programmi integrati e due modalità aggiuntive, extra dry e anti-buck. Al numero 4, abbiamo Klarstein Oceana. Questa minuscola lavastoviglie di Klarstein Oceana, che si trova nella fascia di prezzo medio, è un elettrodomestico piccolo e compatto, ottimo per semplificare la vita a un singolo a una coppia. Può essere portato ovunque grazie alle sue ridotte dimensioni e alla caratteristica che gli permette di funzionare senza allacciamento idrico, con conseguente minor fatica per l'inserviente e più tempo per rilassarsi. Ottimo prodotto per la varietà di programmi disponibili, che sono in totale 6 e possono lavare adeguatamente qualsiasi forma di sporco così come i bicchieri fragili senza pericolo di rompersi durante il processo di lavaggio. Per un'igiene ottimale utilizzare il programma intensivo per stoviglie incrostate, mentre per stoviglie meno sporche utilizzare la modalità veloce o eco, che pur impiegando più tempo permette di lavare a basse temperature nel rispetto dell'ambiente. Al terzo posto, abbiamo la Klarstein Amazonia 6. L'Amazonia di Klarstein è un elettrodomestico da privilegiare, soprattutto se non può essere inserito in una composizione di elettrodomestici. In realtà, può essere posizionato su qualsiasi pavimento della cucina e svolgere il compito quotidiano di lavare i piatti. Grazie ai sei programmi selezionabili dal pannello comandi e ai simboli correlati alle varie possibilità, questa lavastoviglie, nonostante le sue ridotte dimensioni, ha una grande capacità, permettendo di lavare sei coperti, ognuno dei quali potrà per ritrovare igiene e pulizia. Al numero 2, abbiamo il Caxoo o lavastoviglie da appoggio automatico. La piccola lavastoviglie Caxoo è un dispositivo salva spazio ed esteticamente bello. Può essere posizionato su qualsiasi superficie della cucina senza occupare molto spazio e può essere utilizzato anche in campeggio o in vacanza in barca. La sua robusta struttura in plastica e metallo è evidenziata da una lastra in vetro temperato trasparente che, oltre ad essere resistente al calore, permette di osservare l'intero processo di lavaggio. La piccola lavastoviglie Caxoo ha sei grandi cestelli che possono contenere da 12 a 20 stoviglie, lavabili con uno dei tre programmi e temperature, a seconda del tipo di sporco, lavaggio rapido a 55 grado, lavaggio normale a 60 grado e lavaggio migliorato a 65 grado. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il candy CDC P6 slash ES mini lavastoviglie plus. La piccola lavastoviglie candy CDC P6 slash ES è un elettrodomestico da appoggio c'è essai adatta qualsiasi chiuscina occupando il minimo spazio. Nonostante essai trovi nella faccia a basso costo, essai rivela una solta perfetta per una famiglia di essi ai person, sono, fornendo prestazioni di lavaggio exzionali e facilita di caricamento. Dispondi essi ai programmi personalizzabili in base a 5 diversi livelli di temperatura e, di conseguenza, al tipo di sporco da pulire dal stabili. Non dovrei prelevare ai piatti sato l'acqua corrente del ribanetto con questa piccola lavastoviglie libera installazione poi ci ai risultati serrano, igien, pulizia e asi yugatura impeccabile. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri.